Lui è Davide. Sta meditando in veranda e sta raggiungendo la pace dei sessi. Eppure ieri, rientrando a casa dal lavoro, ha accidentalmente tamponato un'auto, causando danni consistenti ad entrambe le vetture. Lei, invece, è Chiara e si sta rilassando in salotto facendo yoga, nonostante stanotte abbia subito un furto all'auto parcheggiata sotto casa, ritrovandosi senza specchietti, ruote e fanali. Ma come fanno ad essere così rilassati? Facile! Avevano attivato Trivellato Zero Pensieri, la soluzione d'acquisto premium che garantisce massima tranquillità, flessibilità e protezione su misura. Con un importo mensile fisso, Davide e Chiara si sono garantiti una copertura assicurativa completa e personalizzabile, con la sicurezza di non correre rischi di adeguamento dei tariffari al rialzo e con rimborsi che arrivano fino al valore d'acquisto della vettura. In caso di danni o incidente, con Trivellato Zero Pensieri potrai risparmiare i costi di riparazione dell'auto grazie alla copertura casco completa e beneficiare di una protezione a 360 gradi anche per gli interventi di manutenzione e rosture meccaniche. Inoltre, non dovrai preoccuparti della gestione di eventuali pratiche, totalmente a carico dei professionisti Trivellato. Con Trivellato Zero Pensieri, insomma, Davide e Chiara non hanno più nessuna preoccupazione per la loro vettura. Per il meeting di 10 minuti fa, invece, non possiamo farci niente. Scopri di più in tutte le concessionarie Trivellato e su trivellato.it